Avevamo facilmente pronosticato un match difficile, una latina che assolutamente non merita il posto che ha. Una squadra con dei valori importanti, siamo stati anche fortunati dell'infortunio di Santo Lamazza, che è un giocatore decisamente importante per questo campionato. Direi che sono stati bravi a toglierci fluidità con la scelta della difesa zona. Siamo stati un po' prevedibili in alcune fasi, abbiamo cincischiato in altre, fatto qualche rientro difensivo non buono. Però direi che nel complesso la partita è stata saldamente nelle nostre mani dal primo al quarantesimo. E questo per una squadra che era reduce da un mese di ottobre e un mese di novembre, che ben sapete è difficile. Non era per nulla scontato, direi che nella difficoltà del match ci sia da sottolineare anche il fatto che siamo stati abbastanza tranquilli, anche quando potevamo andare decisamente in ansia. Non lo abbiamo fatto, però abbiamo sul taccuino annotato un elemento in più. Bisogna essere un po' più fluidi, un po' più rapidi in certi aspetti nell'esecuzione dell'attacco alla zona. Ma onestamente è la cosa sulla quale avevamo lavorato meno in questo mese e si è visto. Però in questi casi non pagare per nulla d'azio, credo che lo scarto non sia mai sceso al di sotto dei sei punti, dimostra che questa squadra comunque in un modo o nell'altro propone reazioni positive. Non era per nulla scontato, ritornando al match di Perugia di un mese fa, parametrando il fattore ansia, non quello tecnico, tra quel match e questo, si capisce perfettamente in cosa siamo migliorati. Le zone sono una coperta corta, o c'è un'energia mentale importante nell'attaccarla, nell'eseguirla, oppure l'attacco finisce con l'essere agevolato. La Tiena è una squadra tecnica, tutto sommato ha trovato immediatamente la chiave. Abbiamo giocato due possessi, abbiamo preso un canestro da tre e un canestro da sotto. Come è buona norma in quei casi non bisogna incaponirsi, abbiamo optato per ritornare immediatamente, e direi che abbiamo giocato tutti i possessi dal primo all'ultimo minuto, tranne tre con difesa uomo contro uomo. Sì, ma loro hanno sta peculiarità, loro fondamentalmente giocano con un sistema molto NCAA, tre piccoli e due lunghi. Direi che hai colto benissimo il dato che poi è l'elemento di forza di questa squadra. La Tiena è una compagine che l'anno scorso ha fatto i play-off e che ha provato ad allungare la panchina, ad avere rotazioni più ampie, inserendo due giocatori molto esperti, come Santolomazzo e come Gagliardo. Direi che si è visto nella sfortuna per loro anche però l'elemento di forza, cioè avere dei giocatori assolutamente in grado di tenere il campo. Io noterei anche Pastore, che è un 94, che mi pare abbia avuto un impatto su un match eccellente, veramente importante. La Tiena, lo dicevo anche in fase di presentazione, è una squadra probabilmente partita per giocarsela per le prime sei piazze, non solo per la salvezza diretta, insomma, verissimo, verissimo. Però io direi che stiamo iniziando ad avere questo tipo di approccio con tutti i giocatori. Direi che è stato chirurgico, malgrado il problema fisico, il contributo di Francesco Quaglia. Direi che Sabatino partito in quintetto, Ricci non in quintetto. È evidente che la differenza non è di valore, ma era semplicemente legata alle caratteristiche dell'avversario. Stiamo sempre più giocando come squadra, anche in questi dettagli. Siamo partiti con un aspetto emotivo, giocare come i viola, nel senso di mettere il pronome personale noi invece che io al centro della scena. Adesso questo giocare come squadra, come i viola, diventa di più un fatto tecnico, cioè capacità di tutti di incidere, indifferentemente dal momento del match in cui vanno in campo, sanno perfettamente cosa fare. Direi che questo è un po' l'uovo di Colombo del giocare come squadra. Il nuovo anno ne parliamo dopo Treviglio. Adesso abbiamo un progetto immediato, quello di andare a prendere a Treviglio i punti che ci siamo lasciati scappare a Castelletto. Dire che Castelletto è una squadra che ha vinto nove delle ultime dieci partite, incluso il match, il derby di ieri sera, è una consolazione che a me non piace. Avevamo la possibilità di portare via quei due punti perché avevamo giocato per larghi tratti molto bene, abbiamo avuto un ultimo quarto non all'altezza, soprattutto in difesa. Per il prossimo anno l'aspetto essenziale è non accontentarsi, fare sempre un passo in più. Sembra un discorso puramente formale, data qui non stampa. Non lo è, è assoluta esigenza, ce lo dice il campo, ce lo dice le giuste annotazioni che avete fatto voi nelle domande su ciò che poteva essere fatto meglio e non lo è stato fatto. Adesso lasciatemi però fare gli auguri soprattutto di Buon Natale alla nostra gente, direi che il contributo diventa sempre più consistente, significa che la gente inizia a crederci ed è un dato che bisogna moltiplicare. Forse ritornando alla tua domanda, lasciando stare gli aspetti tecnici, forse questo è il primo dato su quale lavorare, essere sempre più credibili tecnicamente per catalizzare sempre di più la partecipazione della gente, la nostra capacità di lanciare segnali e di riceverne amplificati in sommo grado.